E' diventata famosa proprio con il brano che parla della sua virginità, ovvero l'Arca Vergi. Signore e signori, Madonna! Buonasera, signori e signori, peccatori e peccatrici, vi presento l'unico, l'inestimabile, l'ineguagliabile, il falegname più famoso del mondo. L'uomo che ha ispirato Geppetto è l'unico uomo che è apparso alla Madonna. Signori e signori, dalla falegnameria di Beth Lea, ecco a voi San Giuseppe! Eppure, se mi preferite, mi ho detto di confuso, mi chiamava sempre Giuseppe San. E niente, siamo qui solo per un motivo, dillero tu. I vostri soldi. Perché poi è un problema, insomma, la malassanità, insomma, ci serve una clinica privata. E quindi, insomma, aiutateci. Siamo ridotti purtroppo a fare musicisti, in Italia pensavamo di trovare una situazione molto migliore, ma invece eccoci qua. Però, dobbiamo dire, non siamo molto bravi, infatti le nostre canzoni sono tutte nella stessa tonalità, giusto? Sì. Siamo ridotti purtroppo a fare musicisti, in Italia pensavamo di fare musicisti, in Italia pensavamo di fare musicisti. Siamo ridotti purtroppo a fare musicisti, in Italia pensavamo di fare musicisti, in Italia pensavamo di fare musicisti. Siamo ridotti purtroppo a fare musicisti, in Italia pensavamo di fare musicisti, in Italia pensavamo di fare musicisti, in Italia pensavamo di fare musicisti. Siamo ridotti purtroppo a fare musicisti, in Italia pensavamo di fare musicisti. Siamo ridotti purtroppo a fare musicisti, in Italia pensavamo di fare musicisti, in Italia pensavamo di fare musicisti. Siamo ridotti purtroppo a fare musicisti.